Un franco bollo dedicato al giubileo della perdonanza nell'ambito della serie tematica Il patrimonio artistico e culturale italiano verrà emesso il prossimo 28 di agosto proprio in occasione della 729esima perdonanza celestiniana. In questo modo il capologo di regione entra a far parte a tutti gli effetti del programma di emissione delle carte valori postali del 2023 a cura del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e del sottosegretario con delega alla Filatelia Fausta Bergamotto. Si tratta di 52 emissioni filateliche tra le quali compaiono francoboli celebrativi, commemorative d'otto serie tematiche dedicate alla storia, alla cultura, alle tradizioni e alle eccellenze del sistema Italia. Dopo l'iscrizione della perdonanza nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO nel 2019 l'annullo filatelico speciale di poste italiane dedicate alla presenza straordinaria di Papa Francesco all'Aquila per l'apertura della Porta Santa allo scorso anno ci riempie di orgoglio la notizia delle missioni di un francobollo dedicato al giubileo celestiniano. Hanno commentato il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, l'assessore al turismo Ersile Lancia il coordinatore del Comitato Perdonanza Daniele, un prezioso riconoscimento alla manifestazione più antica e simbolica della città, concludono, che ha ormai varcato i confini internazionali portando il messaggio celestiniano, simbolo di pace e di misericordia, nel mondo. Ringraziamo dunque per l'attenzione il ministro Urso e il sottosegretario Bergamotto concludono dal Comune per la scelta operata nei confronti della nostra terra e della sua millenaria tradizione.